Una boccata d'ossigeno per i lavoratori di cose di lana, gli amministratori straordinari di Super Maglia, Giovanni Grazzini e Alessandro Ghiori, nominati a suo tempo dal giudice del Tribunale di Arezzo Antonio Picardi, hanno infatti consegnato a tutti i dipendenti l'assegno corrispondente al TFR maturato sino al 2006, le ferie non godute e le tredicesime, un atto a tutela degli interessi dei creditori privilegiati come sono i lavoratori. Un caso sicuramente inconsueto ma che rappresenta uno step fondamentale anche per sbloccare la trattativa con l'azienda BMA, di Marcello Brizzi, ex dipendente di cose di lana Super Maglia e adesso imprenditore del settore tessile di Sansepolcro. Il Tribunale di Arezzo lo scorso lunedì ha infatti accettato la sua proposta per l'affitto del ramo d'azienda produttiva. L'offerta d'acquisto irrevocabile presentata dalla ditta Biturgenze aveva però bisogno di una liberatoria da parte dei lavoratori che non avrebbero così preteso le spettanze arretrate dal nuovo proprietario. Lo scorso marzo infatti i lavoratori erano tutti transitati nuovamente sotto cose di lana dopo che il Tribunale di Arezzo aveva interrotto l'affitto d'azienda Super Maglia. I dipendenti adesso hanno dichiarato di non opporsi al licenziamento, in corso ci sarebbero infatti già altre possibilità di lavoro e gli amministratori straordinari hanno così potuto dare avvio ai pagamenti. Saranno riassorbiti nel tempo una clentina di dipendenti che vengono dalla produzione, dal settore produzione dell'azienda e continua la tradizione della maglia, dunque l'affitto del ramo d'azienda con una successiva offerta di acquisto. Auguriamo veramente degli sviluppi positivi a Marcello Brizia, ad Alessandra Innocenti e veramente un grande in bocca al lupo da parte di tutta la comunità.